Siamo presso la sede di USB, in quella di Talsano, ho al mio fianco il coordinatore provinciale di Taranto, Francesco Rizzo. Rizzo si è tenuto a Bari il Sittini, il presidio, sotto appunto la presidenza della Regione Puglia. Poi c'è stato l'incontro tra voi dell'USB, una vostra delegazione e una rappresentanza della Regione Puglia stessa e come lei ha avuto modo di evidenziare, l'incontro è stato proficuo, soprattutto con riferimento alla possibilità per i lavoratori ex-ILVA in AS di poter aderire su base volontaria agli LPU, lavori di pubblica utilità, nello scopo di integrare il reddito. Poi a un certo punto si è creata una polemica con Peluso, il segretario generale della CGL di Taranto, il quale evidentemente ha un po' confuso tra lavoratori, tra LSU, lavoratori socialmente utili, e LPU. Facciamo chiarezza su questa querelle con Peluso. Sì, c'è stato questo comunicato del segretario generale della CGL, Lopeluso, che era scettico sull'uso degli LPU, li ha definiti tra l'altro uno strumento degli anni Ottanta, fallimentare, ma noi abbiamo risposto, anche in maniera abbastanza vehemente, semplicemente perché quello che diceva Peluso, nulla c'entra con la questione LPU. Sono due realtà distinte e separate. Assolutamente, sì. Noi non stiamo chiedendo che la Regione si prenda in carico questi lavoratori e quindi che questi lavoratori escano fuori dal perimetro di ILVA in AS e quindi dal perimetro, in questo momento, di accedere di taglie. Noi abbiamo chiesto sulla scorta di un accordo fatto a Genova nel 2015, proprio da FIM, FIOM e WILM, quindi FIOM e CGL, WILWILM e FIM e CISL, di applicare la stessa logica, di dare la possibilità a coloro che sono in attesa del reintegro. E quindi in via temporanea, dichiarate subito, di dare la possibilità, oltre all'integrazione salariale, alla cassa integrazione, di lavorare qualche ora con le stesse modalità di Genova per usufruire di qualche centinaio di euro in più al mese. Proprio per andare ad avvicinarsi il più possibile all'originario reddito. All'originario reddito, ma il sistema è identico a quello di Genova in cui il dipendente prende la busta paga da ILVA in AS con l'integrazione di circa 200 euro al mese, la cassa integrazione dall'INPS che sono altre 850 e in più prende un'altra busta paga che va tra le 300 e le 400 euro da parte della società per colnigliano per effettuare le attività di pubblica utilità che si effettuano a Genova. Noi siamo partiti da quell'accordo e abbiamo sempre fatto un riferimento esplicito a quell'accordo chiedendo parità di trattamento. La proposta USB addirittura è migliorativa e la regione ieri ne ha sposato in toto, ha ufficializzato in toto che la dinamica affascina anche la regione perché lì diciamo partiamo dall'accordo di Genova, allarghiamo il perimetro perché le professionalità all'interno del bacino e ILVA in AS ci consentono di fare ragionamenti che non sono solo di attività di pubblica utilità tipo giardinaggio verde e quant'altro, ma anche altro, ma è uno strumento integrativo alla cassa integrazione quindi nulla c'entra assolutamente con gli LSU. Ieri siamo usciti con un comunicato in cui abbiamo detto che ho dichiarato che Peluso o è in malafede a un certo punto oppure ignora. Allora la tengo, la dico così giusto per fare chiarezza perché altrimenti sembra quasi che io stia sparando a zero sul collega. È chiaro che abbiamo reagito perché una notizia di quel tipo genera come dire anche tanta confusione fra i lavoratori, perché a un certo punto qualcuno la domanda della fa, dice ma che cosa vuole dire questo? Paolo Peluso lo considera una persona intelligente, molto intelligente tra l'altro. Secondo me con molta probabilità è stato informato male rispetto alle proposte che noi abbiamo fatto e quindi lui da chitto ha parlato di un argomento che non c'entra assolutamente nulla. Ha travisato il termine, il significato proprio. Perché nel comunicato che è uscito lui parla anche di bacino dei lavoratori da individuare, ma non è questo, non abbiamo mai chiesto questo, il bacino c'è. Abbiamo detto semplicemente alla regione fai esattamente quello che è stato fatto a Genova. Costituiamo una società, questa società avrà lo scopo, noi abbiamo allargato il perimetro perché il comune di riferimento non è il comune di Taranto, ma tutti i comuni pugliesi, tutti i comuni di residenza dei dipendenti di Ilma e Ness, dà la possibilità a questi lavoratori con le 4 ore di lavoro al giorno per 10 giorni al mese di poter integrare lo stipendio, la cassa integrazione e l'integrazione salariale. Quindi non abbiamo detto cambiamo, come dire, licenziamo questi lavoratori da esse e facciamoli transitare in un'altra società. No, quelli rimarrano dipendenti di Ilma e Ness, io stesso rimarrò dipendente di Ilma e Ness. Abbiamo chiarito questa presunta, diciamo. Si teneva a sottolineare questa accusa perché tra l'altro siccome nell'incontro con la task force precedente, ma anche ieri a Bari, la task force tra l'altro ha detto pure che è andata una discussione, per la verità non aveva chiarito che la discussione è andata con la CGL, ma aveva parlato di altri sindacati, che erano scettici sull'uso di questa misura. A me mi è sembrata una polemica a stelle perché in realtà a me sembra, lo dico in tutta onestà, che questo sia il classico problema non della validità della proposta, che è valida, del fatto che la proposta non bisogna sposarla perché l'ha presentata a USB. non mi sono fatto problemi quando mi sono studiato l'accordo di Genova e abbiamo riproposto lo stesso meccanismo anche alla Regione Puglia e ai ministeri, semplicemente perché è stata una cosa positiva che da 15 anni mettere nelle condizioni su base volontaria chi vuole di poter prendere quelle 200-300 euro di più al mese è una misura, tra l'altro, che ci consentirebbe di ammortizzare il corpo in attesa di essere richiamati, semmai avverrà. Io su questo l'ho anche dichiarato, sono scettico, però la dico a parole mie. L'integrazione, la cassa integrazione, altre 3-400 euro di LPU, poi se mi chiamate nel 2035 va bene pure, però io nel frattempo riesco a percepire un reddito dignitoso. Questo è il senso. Bene, passiamo a un altro argomento. Da pochi giorni è nata ufficialmente la nuova compagine Acciaierie d'Italia e non ha perso tempo e già ha segnato il primo colpo, il primo licenziamento con riferimento alla vicenda del 5 aprile. Era il giorno di Pasquetta, ricorderete, all'interno del reparto di colata continua 2 di Acciaieria 2 ci fu un boato, una esplosione a cui seguì un incendio. Bene, da parte di Acciaierie d'Italia, Ex Arcelor Mittal, è stata imputata la responsabilità ad un operaio il quale è stato licenziato. Sembra invece il contrario, nel senso che il dipendente non avrebbe avuto alcuna responsabilità ma si sarebbe attenuto alle procedure richieste. Sarebbero state invece le carenze dell'azienda a provocare l'episodio. Rizzo, intanto questo cambiano, come dire, gli orchestranti o meglio gli orchestranti sono comunque sempre quelli, quasi sempre tutti, però questo voler scaricare le proprie responsabilità e addossarle ai dipendenti ormai è un vezzo, è un difetto ormai abituale. Sì, allora innanzitutto c'è sto comunicato di Fiume e Wilm che parlano di un licenziamento nei fatti però, noi abbiamo contattato i lavoratori, fino a qualche ora fa lui non ha confermato, è in attesa, noi sappiamo come dire che il procedimento è in atto. Questo lavoratore è stato prima chiamato telefonicamente e gli hanno detto stai a casa ti sta arrivando una contestazione disciplinare, quindi hai il budget inibito, non puoi entrare all'interno della fabbrica. Già di per sé questa, come dire, è una cosa vergognosa che un'azienda contatti nel 2021, telefonicamente la più grande multinazionale tra l'altro, a livello mondiale, contatti telefonicamente ai lavoratori dicendogli stai a casa, non so manco dirti qual è il motivo, questo gli ha detto il capetto che l'ha chiamato, comunque ti sta arrivando una contestazione. È arrivata la contestazione in cui addebitavano alcuni fatti al dipendente. Io ho dato un'acchiata a quella contestazione, mi è venuto un po' da ridere perché in realtà venivano addebitate cose al dipendente che non erano di sua competenza. Tanto è vero che c'è stata anche l'ispezione dicendo lo spesal con un verbale di prescrizione che parla chiaro di chi sono le responsabilità. Il dipendente ha risposto, per quanto ci risulta ad oggi, allo stato attuale, era ancora in fase di ricevere la contestazione definitiva. Anche io credo che sia il licenziamento perché il modus operandi è sempre lo stesso in questi casi. Quando ti arriva la telefonata il 99% delle volte ti mettono fuori. La cosa grave è che avanti ieri altri due dipendenti, sempre dalla CCO, sempre sulla linea, sono stati contattati telefonicamente e entrambi è stato detto state a casa in attesa di contestazione disciplinare. Quindi lo stesso meccanismo, pure quelli probabilmente riceveranno la lettera di licenziamento. la dico così, oramai è frassi, si è frassi, giocano con la vita delle persone, questi l'abbiamo detto in tutte le maniere, questi non sono quadri con la testa, questa è gente malata che gioca sulla disperazione delle persone. Io l'altra sera ho avuto la telefonata di uno dei lavoratori che è stato colpito da questa contestazione che ancora gli deve arrivare, ma che gli avevano comunicato telefonicamente stai a casa perché ti sta arrivando una contestazione, non sappiamo qual è il motivo, questo gli è stato detto. Poi tra l'altro queste parole non è che te lo dice il capo turno e il capo squadra, ti vengono dette anche dal capo area e dal caporeparto, che sono gli unici vero responsabili di questa faccenda qui, lo spiegherò perché. Il lavoratore mi ha chiamato l'altra sera disperato chiaramente e tra l'altro ha detto, fra ha detto, l'unica colpa che io ho di quel giorno è quello che non sono morto perché è stato il lavoratore praticamente che ha rischiato più di tutti perché un secondo prima dell'esplosione si trovava lì ad un metro. Per la serie cornuto e mazziato. Sì, il paradosso poi è questo, ma come dire, fa specie il meccanismo come la freddezza, la cattiveria, questo modo di fare sprezzante della vita umana e dei sentimenti delle persone, io ti prendo e ti putto in mezzo alla strada. Ti anticipo che noi abbiamo depositato alcune denunce alla procura e altre ne stiamo depositando. Secondo noi dietro c'è un disegno chiaro. È grave, lo dico, che c'è una multinazionale che continua a non rispettare le leggi, continua a non rispettare la Costituzione, licenzia in questa maniera i lavoratori, sputando in faccia gli enti ispettivi, alle istituzioni che intervengono per chiedere rispetto della legge. E' intervenuto lo special. Perfetto. E lo Stato cosa fa? Fa l'accordo con questi e gli dà pure i soldi nostri. È gravissima sta cosa. Sta cosa è gravissima. Il 14 noi saremo sotto il Ministero e porteremo anche questi lavoratori, compreso Riccardo Cristello, che ancora vive in quella condizione. E ribadiremo quello che abbiamo già detto. Bisogna allontanare la Morselli e il suo braccio destro, che è Ferrucci, perché sono le persone che hanno creato un clima di terrorismo all'interno di quella fabbrica. E se vanno licenziati, in questo caso, va licenziato il caporeparto e il direttore di aree, che sono, faccio i nomi, l'ingegnere Ancona e l'ingegnere Don Vito, che è quello che prende il telefono e nelle condizioni di pericolo dice ai capitorni, che poi non si capisce perché, come dire, alcuni personaggi spariscono da queste contestazioni, pur sapendo che stanno violando le pratiche operative e i sistemi di sicurezza, continuano a colare e che mi querellino se non è vero. La cosa assurda è che ora c'è il nuovo soggetto Acciaierie d'Italia, che è anche Stato, quindi lo Stato si piega ancora una volta ad Arcelor Mittal. No, è peggio, perché da quando è diventata Acciaierie d'Italia abbiamo aumentato, come dire, il numero delle sospensioni cauterative nel giro di una settimana. Forse perché la regia è sempre quella. Queste gente, io l'ho detto prima, queste gente che abusa del potere, l'acusacrale, poi alla fine è che il Ministero, i Ministri, il Governo dovrebbe intervenire per chiedere il rispetto della Costituzione e delle leggi. Qui il messaggio che passa, lo diceva l'altra sera uno dei lavoratori licenziati, che l'ha sconfortato, diceva Fra, tu alla fine devi rispettare tutto quanto è previsto all'interno delle leggi, loro alla fine non se ne fottono nulla, ti buttano in mezzo alla strada, sanno che stanno creando, come dire, situazioni drammatiche all'interno delle famiglie, ma si disinteressano forti, come dire, della loro posizione. Cioè questa gente, la dico così, che ha metodi che dal mio punto di vista non sono normali, io ho parlato tranquillamente, questi sono meccanismi terroristici. Lo schema è, io non faccio le attività, se tu ti lamenti, chiami il sindacato che chiamano spesa, lei interviene e mi fa la prescrizione, io ti licenzio scaricando la colpa su di te. Il problema è a monte, tu le attività non le fai e tu pretendi, anche qua, perché non è irregolare, è emerso questo da una serie di vicende, che l'ingegnere Don Vito telefonicamente, ed è successo una notte anche in presenza del nostro RSU, comunica al reparto se c'è una siviera, come dire, che non può colare, no, vai, 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 non ti preoccupare, ti do io l'autorizzazione, se va al di fuori delle norme di sicurezza. Non può funzionare così. Quindi quelli da prendere da licenziare fuori a calci nel culo sono Morselli, il braccio destro Ferrucci e tutti questi capetti qua che si sciacquini, che si vendono per quattro soldi in base al padrone che arrivano. Te lo faccio notare, lo dico anche con una sorta di campanismo, non è un caso che queste gente che non è manco residente a Taranto, che è una cosa vergognosa questa, queste gente che non se ne fotte niente di Taranto, che sta lì in quina, lavora solamente per percepire, per mettersi i soldi in tasca e si permette il lusso anche di licenziare coloro che stanno lì e si lamentano chiedendo un minimo di sicurezza per non lasciarci la pelle sugli impianti. Che hanno rischiato la vita, tra l'altro, per poi essere premiati con un calcio nel sedere quale i licenziamenti. Sì, perché il paradosso è questo e me lo diceva l'altra sera il lavoratore, dice la mia colpa è quella di non essere morto perché io ho un secondo di ritardo e io su quella linea ci rimango a causa di che cosa? Di un ordine che non doveva partire, dato da quei due responsabili, che sono le uniche due persone da prendere, insieme a chi ha fatto la contestazione, insieme alla Morselli che è quella che ho chiesto, da prendere e da mettere in carriera, perché questi sono delinquenti e che mi guarellino, se sto dicendo una falsità, sono delinquenti. Cambiamo argomento, ci sono due appuntamenti la prossima settimana, il 13, giovedì 13 e venerdì 14, sappiamo che il 12 e il 13 c'è la manifestazione dell'Associazione Geritori Tarantini insieme ad altre associazioni, manifesterà pacificamente il 12 in Piazza San Silvestro, il 13 davanti a Montecitorio, proprio in attesa per sensibilizzare l'attenzione relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato che si dovrebbe pronunciare proprio in quei giorni, il 13 o al massimo il 14, con riferimento ovviamente alla sentenza del Tar che aveva disposto la chiusura dell'aria a caldo. USB comunque, anche se diciamo a titolo così personale di una rappresentanza, sarà lì a testimoniare il diritto alla vita di Taranto. In che modo parteciperete? Io ho sentito alcuni degli organizzatori, siccome noi su questo tema ci siamo, la posizione nostra è chiara, noi non crediamo che ci sarà mai un rilancio di quella fabbrica, che quella fabbrica per una serie di ragioni possa mai diventare compatibile. è chiaro che noi saremo lì a dare sostegno in quanto genitori, ci sarà una delegazione nostra di lavoratori. Ci hanno chiesto di non andare come USB, ma di andare come... Titolo personale, come lavoratore, senza bandiere, quindi senza striscioli. Diciamo che l'idea è questa, mandare una delegazione di alcuni lavoratori lì e poi con tutti gli altri salire il giorno successivo. Infatti il 14, come detto poc'anzi, ci sarà la manifestazione dinanzi al Mise. Ci sarà quindi un incontro al Ministero, si spera, tra il Ministero e le rappresentanze sindacali. Con quali auspici? Io la dico così, come abbiamo già detto, qualsiasi ragionamento è falsato dalla presenza di soggetti che stanno lì a distruggere tutto quello che si tenta di fare. Abbiamo dei soggetti che godono a far male, a distruggere le emozioni, le persone, giocano con la vita dei lavoratori. Allora, partendo dal presupposto, io con che spirito mi siedo e faccio una trattativa? Dobbiamo fare una trattativa seria con Lucia Morselli e con Ferrucci al tavolo, ma stiamo scherzando? In un paese normale, perdonami, sarebbero stati presi e allontanati, perché quello che stiamo denunciando noi da due anni, da quando arriva da Marsella, adesso, come dire, anche se non la nominano, perché io ho notato anche questo, perché parecchi non la nominano. L'innominata. L'innominata. È impossibile fare un ragionamento serio con questa qua. Cioè, questa non è una mena, questa gioca, abusa del potere che gli viene conferito. Una tagliatrice di teste. Sì, ma non è solo quello, c'è tanto altro da aggiungere. Togliatrice di teste, un complimento alla dottoressa. Poi gli atteggiamenti sono bigliacchi, perché poi alla fine chi abusa del proprio potere ha un atteggiamento bigliacchi, si prende in giro la città, l'hai visto pure con la sponsorizzazione che hanno fatto la Stato, che è una vergogna. Ha messo lo striscione a ceria d'Italia. Una beffa ai tarantini. Sì, guarda, due schiaffoni nella faccia, della serie, capite? Come se il tarantino potesse comprarsi, si potesse comprare così. La battuta famosa di Alberto Sordi, io so io e tu. Ci siamo capiti. È questo. Quindi, ragionamento serio, rinchiudiamoli in qualche reparto del Cimmo dove vanno chiusi questi personaggi, allontaniamoli, perché questi sono da mettere completamente fuori gioco se il governo vuole fare un ragionamento serio. altrimenti prendiamo atto che il governo è diventato complice di questa multinazionale, complice di questi atteggiamenti, perché come dicevi tu prima, licenziamento di Cristello, che si trova in fase, e le ultime tre contestazioni che probabilmente produrranno altri licenziamenti, vengono fatti, come dire, nel momento in cui c'è il passaggio da Asselo alla ceria d'Italia. Quindi lo Stato si assume le sue responsabilità. E' possibile capire come è possibile buttarci prima i soldi dentro e poi fare il ragionamento su come deve essere composto il CDA. Cioè è paradossale questa cosa. Se tu oggi chiami a ceria d'Italia, noi sappiamo l'amministratore delegato e Lucia Morselli, con cui tra l'altro, come dire, che ci parli a fare, ti dice una cosa, fai il contrario. È inaffidabile da questo punto di vista. Per tutto il resto, è paradossale che lo Stato prima ci mette i soldi, come dire, poi si prende le garanzie. Cioè in questo momento il paradosso è che abbiamo dato a darselo a Lucia Morselli, quello che volevano. Quindi un cambio di passo vero da parte del governo se vuole fare qualche discorso serio, ma i discorsi seri partono dalla tutela delle persone, dei diritti delle persone, che sono il diritto al lavoro e non essere licenziati in quella maniera, e il diritto alla salute che è comunque sempre prioritario a Taranto vista la condizione che stiamo subendo da anni.